Vorrei semplicemente dire che le tracce comunque erano delle tracce stimolanti, secondo me, sia per quanto riguarda il tema della nazione, e certamente potevano esserci anche degli spunti interessanti, adesso anche rispetto alla contemporaneità, la problematica della guerra in Ucraina, di una nazione che si sta costruendo ai noi e ai loro su questa guerra, che comunque coinvolge persone, per esempio russofone, laddove il concetto di nazione oggi va al di là dell'idea dell'identità linguistica o religiosa, quindi comunque riflessioni che potevano anche immergersi nella contemporaneità. Per quanto riguarda il tema su Moravia e Quasimodo, certamente su Moravia per chi è di altre generazioni sarebbe stato forse più stimolante, rispetto ai ragazzi, perché insomma certo un po' di disagio rispetto a un autore che forse era molto più presente nella vita di qualcuno come me di qualche generazione fa, però sicuramente un tema altrettanto stimolante. Piero Angelo va bene, il problema comunque che penso che sia stato sicuramente affrontato anche in altre occasioni dell'impatto tecnologico. L'altra tematica era quella su WhatsApp e sul tempo dell'attesa, l'attesa che si è sempre ridotta al minimo e con tutte le implicazioni che possono esserci. Io penso che comunque erano tracce sulle quali i ragazzi avrebbero potuto e sicuramente avranno fatto, sviluppato, mi auguro, da Presidente di Commissione con originalità, con creatività e soprattutto con libertà perché non dobbiamo dimenticarci che lo spirito è quello di sentirci in una scuola libera, proiettata verso il futuro, che guarda sicuramente al passato, ma il mio auspicio è che tutto sia andato per il verso giusto e comunque da parte della mia, penso di tutte le commissioni, la massima apertura, qualsiasi idea. Ci sono stati dei problemi dentro dei ragazzi? I ragazzi della mia commissione, tranquilli, sereni, hanno lavorato in maniera super concentrata, con la massima disponibilità anche dalla commissione per piccoli chiarimenti, però ripeto, il clima, quello che posso dire in conclusione, assolutamente sereno e positivo e niente, certo, forse preoccupa per chi come, insomma, per i ragazzi di questa commissione che è di un liceo scientifico, domani sicuramente forse la prova di matematica mette un po' più di tensione. Per la prova di italiano posso confermare che il clima era veramente sereno e fiducioso.